Lo spettacolo della moda ferrarese è andato in scena ieri sera sullo sfondo del castello Estense. Abiti, gioielli, vestiti da spose da cerimonia, accessori, moda per i bambini, calzature, si sono alternate sul palco presentando uno spaccato spettacolare e interessante della vitalità imprenditoriale delle imprese artigiane e commerciali nel settore tessile abbigliamento del nostro territorio. La moda in castello, la sfilata evento organizzata come ogni anno dalla CNA ferrarese e da CNA Federmoda all'inizio di settembre, quando l'estate sta per concludersi, è ormai un appuntamento tradizionale per il pubblico ferrarese e per le aziende che qui hanno modo di incontrarsi e confrontarsi. Quest'anno finalmente si può guardare al futuro con un po' di ottimismo in più. Diciamo che quest'anno per la prima volta, dopo diversi anni, si intravede uno spiraglio di luce alla fine del tunnel e quindi questa manifestazione è ancora più importante perché in questo momento le aziende che sfilano stanno ritrovando un percorso di crescita, nuova energia, nuove opportunità di mercato. Insomma c'è un piccolo segnale di ripresa che dobbiamo tutti insieme essere capaci di aiutare, da un lato sostenendo le imprese, dall'altro lato sostenendo i consumi, insomma ognuno facendo la sua parte. È un ritorno importante, è finalmente una ripresa che ne avevamo bisogno assolutamente. Ripresa direi firmata proprio dalla grinta e dalla voglia delle nostre imprese di far bene, chi ha retto, chi ha sostenuto queste difficoltà è stato capace di rinnovarsi e fa innovazione e riesce a stare sui mercati, è riuscito a fare un'operazione importante come questa, si è messa insieme, si è unita, ha creato consorzi e ha creato quindi un prodotto che è ben accolto. Quest'anno alla sfilata hanno contribuito con quattro momenti molto spettacolari i danzatori di Evolution Dance Theatre, compagnia di Roma che fonde coreografia, atletismo e suggestivi effetti ottici e luminosi. Nel corso della serata non è mancato un momento dedicato a una neonata rete di sette imprese che mettendo insieme le proprie diverse professionalità hanno saputo ideare un prodotto allo stesso tempo interessante, innovativo, femminile e molto adatto alla città delle biciclette. Praticamente alcune aziende, tutte ferraresi, tutte facendo parte del tessile, anche se con ruoli molto diversi, hanno deciso di confrontarsi, mettere insieme le loro diverse professionalità per orientarle verso la produzione di un prodotto comune. La serata, come ogni anno un successo, è stata ripresa integralmente da Telestense che la riproporrà domenica sera 10 settembre alle 21 in differita.